Fino al 7 maggio al Museo Diocesano di Milano in esposizione la crocifissione del Masaccio. Per i visitatori non solo la possibilità di ammirare uno dei capolavori dell'artista che rivoluzionò la pittura del 400 italiano, ma anche di vedere come si realizza il fondo oro grazie ai futuri orafi del capoluogo Lombardo. I ragazzi hanno preparato delle tavole attraverso le quali fanno vedere come avviene l'applicazione della foglia d'oro. Quindi il gruppo si mette in questo laboratorio e vede quella che sarebbe stata la vera e propria azienda. Dal legno alla preparazione del fondo col bolo fino alla lavorazione dell'oro. Ti riempie il cuore sapere di aver fatto qualcosa di prezioso, di bello per qualcuno che può rendere felice qualcuno. Un'iniziativa che si inserisce nel filone è imparare facendo della scuola professionale Galdus che da poco ha inaugurato un nuovo laboratorio di incassatura al microscopio dedicato agli Under 25 che vede la sinergia tra scuola e impresa. È un lavoro in ambito artistico quindi con una forte componente di valore, di interesse, di passione, però associata a un sapere tecnico può portare davvero a un inserimento nel mondo del lavoro anche di ragazzi che magari in questo momento non vedono un proprio sbocco lavorativo, fanno fatica a vedersi nel futuro. Un percorso che ha preso vita poco più di un mese fa in uno spazio dedicato. Permette di unirsi al metallo prezioso, alla pietra preziosa, quindi unire questi due mondi naturali nella meraviglia di quello che sarà l'oggetto finito.